Ex soci cop tramortiti dal no del tribunale al risarcimento della regione per omesso controllo e una beffa pronti a ricorso ma spiega l'avvocato Reiner occhio alla prescrizione Fumo nel valo scale di un palazzo in via Giulia con domini evacuati dai vigili del fuoco per fortuna nulla di grave ma solo un grande spavento Rubano un frigorifero al Barrex e poi lo abbandonano davanti alla questura inquietante fatto di cronaca con protagonisti due giovani ubriachi Si sta giocando una partita a scacchi sul porto di Trieste e così l'ex senatore di Forza Italia Giulio Camber al New York Times nell'articolo sui cinesi in Italia Tassa sui rifiuti e scontro politico sui rincari per PD e 5 Stelle frutto della mala gestione della giunta ma il centrodestra respinge al mittente le accuse Porto vecchio e polemiche, serie di botte e risposta fra l'attuale sindaco di piazza e l'ex Cosolini su lavoro in corso, master plan e visione complessiva del progetto Degrado a San Giovanni tra siringhe, sporcizia e scritte ingiuriose se ne occupa oggi la rubrica Io chiamo Tele4 che dà voce ai cittadini di Rione Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4 Nessun rimborso agli ex soci cop da parte della Regione come annunciato ieri sera al telegiornale di Tele4 La richiesta di risarcimento avanzata dai 222 ex soci è stata rigettata dal Tribunale L'avvocato Mario Reiner che tutela i risparmiatori ha annunciato che verrà fatto ricorso in appello e ha lanciato un allarme, occhio ai tempi della prescrizione Il servizio d'apertura di Bernardo Gulotta Notte insonne per gli ex soci delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli dopo aver appreso che la richiesta di risarcimento alla Regione Friuli, Venezia e Giulia è stata rigettata dal Tribunale I 222 ex soci cop dunque si trovano punto e a capo in quanto è stata contestata la tesi dell'omessa vigilanza da parte dell'ente che a quanto pare avrebbe esercitato correttamente il suo compito Non solo la Regione ha esercitato esattamente i controlli che erano dovuti ma che questi controlli erano limitati alla sussistenza del requisito della mutualità Il che non spiega peraltro come la legge regionale 27 del 2007 alla quale noi ci siamo richiamati nella causa che abbiamo promosso all'articolo 15 lettera C prevede espressamente che la Regione debba effettuare delle revisioni periodiche annuali prendendo in considerazione e valutando anche lo stato patrimoniale delle cooperative acquisendo i bilanci, le relazioni degli amministratori e dei sindaci e dove siano previste anche le certificazioni di legge Lei capisce che se la Regione avesse esercitato effettivamente questo controllo sullo stato patrimoniale delle cooperative operaie certo non sarebbe sfuggito un ammanco patrimoniale che si è quantificato da parte del perito al quale si è rivolta la Procura della Repubblica in 32 milioni di euro nel giro di 7 anni E' molto probabile a questo punto il ricorso in appello in quanto secondo l'Avvocato non sono state risposte molte domande che non sono state poste dagli ex soci il problema più urgente ora riguarda la prescrizione Il Codice Civile prevede un termine quinquennale che nel nostro caso con buona approssimazione dovrebbe decorrere dal momento in cui le cooperative sono state ammesse con il concordato preventivo quindi da quel che ricordo settembre-ottobre del 2014 per cui la prescrizione è prossima Per evitare la prescrizione però consiglierei fortemente a tutti i soci prestatori delle cooperative che non avessero fatto la causa di mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla regione Friuli Venezia Giulia con l'indirizzo di Piazza Unità d'Italia numero 1 specificando la richiesta di risarcimento delle somme che quale socio delle cooperative operaie è prestatore non saranno rimborsate dal concordato preventivo addebitando il mancato rimborso e la perdita di queste somme all'omessa vigilanza da parte delle regioni E siamo alla cronaca intervento in forza dei pompieri la scorsa notte in uno stabile di Via Giulia il vano scale completamente invaso dal fumo ha reso necessaria la temporanea evacuazione dei condomini Un intero edificio evacuato e un paio d'ore di preoccupazione dei condomini per i propri alloggi ma per fortuna nessun danno grave intervento in forza dei pompieri poco dopo le 22 di ieri in Via Giulia il vano scale del condominio era letteralmente invaso dal fumo senza però nessun focolaio evidente la prima squadra del comando di Trieste il funzionario di guardia hanno provveduto a far uscire tutte le persone dallo stabile scoprendo in uno dei locali una combustione senza fiamma ancora non chiara all'origine sul posto, contemporaneamente alle operazioni di bonifica anche un'ambulanza del 118 che però non ha rilevato intossicazioni di sorta fra i proprietari degli appartamenti i danni sono rimasti limitati all'annerimento da fumo del vano interessato dalla combustione dopo la reazione dei locali e la verifica dell'assenza di monossido di carbonio i vigili del fuoco hanno permesso alle persone di rientrare nei rispettivi alloggi indagini della polizia sull'origine dell'incidente che poteva provocare conseguenze ben più gravi e ancora cronaca rubano un frigorifero davanti al bar Rex in galleria Protti e poi lo abbandonano tra il teatro romano e la questura l'inquietante fatto di cronaca è successo la scorsa notte ci racconta tutto Gianluca Paladin per quel che ci riguarda il fatto finisce qua ovviamente spero che comunque i ragazzi abbiano l'accortezza di venire qua magari chiedere scusa e risolvere tutto così in maniera gentile ed elegante ecco il video che incastra i due ladruncoli di sabato mattina il girato è ripreso da Trieste Cafè all'alba del 16 marzo scorso in zona Piazza della Borsa due giovani come si può notare dal video hanno spostato di peso un frigorifero posto all'esterno del bar Rex della galleria Protti poco dopo trasportandolo per diverse decine di metri lo hanno abbandonato vicino al teatro romano sembrerebbe la classica bravata di chi dopo una notte di bagordi abbia un po' alzato il gomito come potrebbe suggerire anche l'orario in cui si sono svolti i fatti intorno alle 6 di mattina ad ogni modo per ora le motivazioni del gesto rimangono ignote e al momento sono in corso le indagini delle forze dell'ordine è chiaro dal video che è stata una bravata una bravata che fortunatamente si è risolta in nulla anche grazie alle forze dell'ordine che hanno trovato il frigo e hanno messo tutto a posto quello che dispiace alla fin fine che è un episodio che sono episodi che capita spesso nel senso che chiunque abbia locali pubblici vi confermerà che siamo sempre soggetti a piccoli furti a piccoli danni un giorno portano via una sedia un giorno rompono un tavolo e io dicendo peccato perché Trieste comunque è piccola ci conosciamo più o meno tutti e vengono subito fuori i responsabili cioè la gente dovrebbe anche capire che per una cosa del genere rischia di avere dei problemi o perlomeno perdere in reputazione personale Le mire della Cina sul porto di Trieste sono al centro di un articolo pubblicato da New York Times il più importante quotidiano americano tra gli intervistati oltre al sindaco di Trieste di Piazza e il presidente dell'autorità D'Agostino anche Giulio Camber che parla di partita a scacchi sulla nostra città Laura Bucarella Un porto italiano dimenticato potrebbe diventare la porta della Cina in Europa e questo è il titolo dell'articolo pubblicato nelle scorse ore sul New York Times che riporta alla ribalta internazionale il nostro scalo gli interessi di Pechino e le preoccupazioni americane per l'operazione Tra le voci critiche il giornalista Jason Horowitz individua la più autorevole in quella di Giulio Camber alle cui dichiarazioni dedica ben tre capoversi e la chiusura dell'articolo con l'immagine suggestiva insieme a inquietante della partita a scacchi Il cronista statunitense scrive che il senatore respinge le rassicurazioni locali e nazionali sull'espansione cinese e cita Camber è come il campione del mondo a scacchi che gioca con un paio di ragazzi dilettanti al caffè degli specchi non si sa mai che intenzioni abbia il miglior giocatore di scacchi al mondo Il senatore Azzurro sottolinea anche che i cinesi sono già dietro molte imprese turche che operano nel nostro porto la preoccupazione è che Pechino banchetti con l'Italia come ha già fatto con la Grecia Il simbolismo è sorprendente scrive ancora Horowitz per il New York Times una potente Cina fa crollare l'alleanza economica che un tempo dominava il globo e infligge un duro colpo all'amministrazione Trump che ha tentato senza successo di fermare l'accordo sulla via della seta c'è spazio naturalmente per le parole del presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino che da un ufficio cosparso di doni e delle delegazioni cinesi racconta che il porto di Trieste sta tornando al ruolo logistico per l'Europa che aveva per il vecchio impero austro-ungarico Washington definisce la Belt and Road Initiative una minaccia economica e potenzialmente militare scrive ancora Horowitz ricordando la posizione degli Stati Uniti che aggiunge negli anni successivi alla seconda guerra mondiale regnarono molto a Trieste e c'è spazio per l'intervento del sindaco Roberto Di Piazza che ritiene che la sua città abbia molto da guadagnare dalla Cina ma che i cinesi abbiano ancora più da guadagnare dai fondali del porto dai benefici doganali dai collegamenti ferroviari alcuni imprenditori dicono che abbracciare a pieno la via della seta porterebbe dei rischi nell'attrazione di investimenti a Trieste scrive il cronista americano che cita Vittorio Petrucco interessante perché è tra i soci della nuova piattaforma logistica al fianco della famiglia Parisi preferisco guardare a Ovest anziché a Est dice Petrucco svelando il sogno nel cassetto con l'americana Microsoft un centro subacqueo per il raffreddamento dei serve da costruire a Trieste e sull'accordo Italia-Cina riferito al Senato oggi il Premier Conte non è un accordo internazionale non crea vincoli giuridici ha detto è un'intesa programmatica cioè non passa per l'approvazione del Parlamento tra le altre cose proseguiamo parlando invece dell'avvio dei lavori in Porto Vecchio per la realizzazione del centro congressi che ha innescato una serie di botte e risposte tra il sindaco di piazza e l'ex primo cittadino Cosolini l'esponente del PD rimarca la carenza di visione strategica dell'attuale giunta il numero uno attuale del Comune punta tutto sul pragmatismo interessanti oggi le dichiarazioni dell'ex sindaco di Trieste Roberto Cosolini sull'incarico a Esther Young e naturalmente sul Porto Vecchio sul trenino una grande operazione può essere fatta anche per tappe per puntate ma sicuramente una grande operazione non è il risultato della sommatoria di tante piccole operazioni separate fra loro al sindaco in carica manca solo un casco e una mazzetta per mettersi al lavoro tra gli operai al past major invece un pantografo e un pool di esperti per ridisegnare strategicamente l'antico scalo asburgico i due roberti di piazza e cosolini sono fatti così e anche sul Porto Vecchio rimarcano i propri modi di pensare e agire in maniera chiara e netta intervenire il prima possibile concretizzando subito le prime opere piuttosto che agire su un piano complessivo che garantisca maggiore futuribilità ruspe contro masterplan pragmatismo contro visione d'insieme una discussione non scevra da qualche stoccata sotto la cintura che rispecchia due visioni differenti apre i cantieri gli ricordo che apre i cantieri dei 50 milioni che chi lo ha preceduto ha richiesto e ottenuto con la delibera del Cipe del primo maggio del 2016 io rispondo così abbiamo sei masterplan mai fatto nulla sei masterplan che la Corte dei Conti dovrebbe veramente chiedere quanto sono costati quei masterplan risultati niente hanno fatto un piano con Ernst & Young da 180 mila euro in italiano che non è servito a nulla si lamenta dello studio di Ernst & Young che non sarebbe in inglese allora lo confonde con una brochure promozionale ma lo studio è un'altra cosa lo studio dava al comune alcune linee guida proprio per l'elaborazione di un piano di un piano strategico invece io amo le ruspe e in questo momento ci sono le ruspe e fra qualche giorno ci saranno anche altri cantieri e ci saranno anche le gru questo è quello che conta nella vita il risultato ma dispiace che il sindaco prenda ogni contributo magari critico ma che vuole essere propositivo come un delitto di lesa maestà e la polemica inevitabilmente è destinata a continuare e ancora politica con le dichiarazioni del presidente della regione Fedriga sul congresso mondiale della famiglia solo falsità per delegitimare chi difende il diritto di un bambino ad avere una mamma e un papà il 30 marzo sarò anch'io a Verona al fianco di chi riconosce il valore universale della famiglia naturale quanto afferma appunto il presidente della regione che sarà all'appuntamento veronese sono esterefatto dalle interrogazioni di alcuni parlamentari che con la protezione dello scudo dell'insindacabilità diffondono fake news tra queste sottolinea Fedriga l'accusa una delle relatrici di aver proposto l'introduzione della pena di morte per gli omosessuali quando la stessa si è sempre battuta contro la pena capitale e mai ha firmato proposte di legge orientate invece nel senso di un'introduzione anche di questo tipo di misura in Italia proseguiamo parlando invece del dibattito attorno ai rincari sulla tassa dei rifiuti a Trieste la cosiddetta Tari sentiamo il servizio del nostro Bernardo Gulotta dopo il consiglio comunale noi ci rivediamo dopo la pubblicità non c'è una pianificazione a lungo termine non c'è un ripensamento del sistema per esempio di raccolta fanno pagare ai cittadini la totale mancanza di due anni e mezzo di politica su raccolta differenziata e come avevano invece detto di voler andare a rivoltare come un calzino la gestione rifiuti in città sull'Atari e sul bilancio è scontro politico gli aumenti previsti riguardo la tassa dei rifiuti non vanno giù alle opposizioni in consiglio comunale che giudicano fallimentare la pianificazione della giunta i servizi supplettivi di spazzamento in alcune zone della città secondo noi non sono giustificabili ovvero il costo da far pagare i cittadini non è giustificabile perché vuol dire che o veniva fatto male negli anni passati oppure se viene fatto in più adesso non deve essere pagato in più dai cittadini è un'indicizzazione delle tariffe che è dovuta per contratto per cui abbiamo un importo di circa 300 mila euro che è dovuto e non si può evitare altrimenti l'altro è un ulteriore servizio che invece viene introdotto a favore della cittadinanza per circa 600 mila euro e che è la pulizia delle aree verdi dei vialetti se questo comporta un piccolo aumento delle tariffe chiaramente vedremo il risultato e speriamo che sia apprezzato dalla cittadinanza e sono giorni questi in cui gli esponenti politici sono chiamati a confrontarsi sul bilancio del comune e anche in questo caso a livello generale il dibattito è molto acceso ci saranno meno 400 mila euro rispetto al settore cultura meno 1 milione 250 trasferimenti uti giuliana questo è quindi il risultato demagogico della confusione sulla legge di riforma degli enti locali in regione quindi davvero una situazione molto incerta direi in alcuni ambiti grave di estrema delicatezza respingiamo all'opposizione le accuse questa amministrazione non aumenta le tasse non aumenta tariffe dei servizi che noi garantiamo al massimo livello penso ai ricreatori alle scuole materne a tutti i servizi e soprattutto anche le case di riposo è chiaro che i costi aumentano li abbiamo sopportati li stiamo sopportando non aumentiamo le tasse e andiamo avanti per una strada virtuosa che sta rimettendo finalmente in moto la città ben trovati con il telegiornale la rubrica io chiamo telequattro oggi si è occupata della situazione di degrado di alcune aree del rione di San Giovanni degrado sporcizia siringhe lasciate in terra e odori nauseanti c'è proprio di tutto nei parchetti e dietro gli stabili del rione di San Giovanni siamo vicino al CERT e si sa c'è un gran viavai di ragazzi e persone che purtroppo hanno bisogno di aiuto se non che alcuni di questi individui hanno preso il quartiere come una sorta di dormitorio e tra virgolette di punto di svago per consumare alcolici e droghe alla luce del sole l'orario più critico è quello serale dove probabilmente una mamma con bambino difficilmente se la sentirebbe di transitare in queste zone effettivamente io lavoro in questa zona e ci sono per l'appunto aggregazioni di gruppi di tossicodipendenti nel polio drare spesso volentieri si ha paura anche di passare e verso Sara per l'appunto è da considerarsi pericolosa per quelle che possono essere per l'appunto le famiglie perché effettivamente una mamma con i bambini in questa zona ha timore di passare dove ci sono appunto questi gruppi di personaggi roschi anche alcuni commercianti hanno presentato lamentele e perplessità per una situazione per il momento ignorata o comunque sottovalutata avendo l'attività qua ormai da dieci anni non sono mai stato importunato personalmente però effettivamente c'è un degrado ahimè causato da queste persone che non rispettano diciamo il decoro e quindi hanno regole tutte loro ultimamente si sente parlare spesso di episodi di degrado e i cittadini cominciano a esserne stufi anche perché la situazione si protrae ormai da molto tempo come cicloscrizione noi ci siamo mossi ci siamo mossi tantissime volte e abbiamo tantissime volte contattato anche il CERT stesso per avere un aiuto per trovare assieme una soluzione soluzione che ahimè non si è ancora trovata perché davanti a questa parte il CERT ci dice sempre ci dà sempre la stessa risposta che lui che il CERT non può stare con i ragazzi sotto trattamento fuori fuori dalla loro proprietà notizia dell'ultima ora dal sito ansa.it la nave Ionio che era a largo di Lampedusa con 48 migranti a bordi si sta dirigendo verso il molo commerciale del porto di Lampedusa per sbarcare appunto i 48 migranti su ordine della guardia di finanza salita a bordo della nave ci siamo occupati anche noi di questa vicenda nazionale perché l'armatore della nave è il triestino Alessandro Mez Nel Mediterraneo sta accadendo quello che accade quasi ogni giorno ci sono persone in fuga dai propri paesi in fuga da situazioni in cui non è più possibile vivere che tentano di arrivare in Europa come tentativo di opportunità sanno che l'unica possibilità di sopravvivere è quella di mettere a rischio le proprie vite e il triestino Alessandro Mez che parla armatore della nave Ionio del progetto Mediterranea che ieri ha soccorso 49 migranti tra cui 12 minori davanti alle coste libiche il battello ora la fonda davanti a Lampedusa ha scatenato immediatamente lo scontro politico perché non autorizzato assieme alle altre nave ONG a sbarcare in Italia dal ministro Salvini l'Europa non è in grado in questo momento non vuole politicamente trovare un porto sicuro in cui far sbarcare 49 persone per cui bambini di un anno 6 anni 7 anni che sono da 15 giorni in balia delle onde in mezzo al mare la Ionio peraltro è stata ribattezzata dallo stesso vice premier come la nave dei centri sociali per la presenza a bordo di Luca Casarini leader degli antagonisti del nord-est la stessa area politica di Metz già consigliere regionale dei Verdi candidato sindaco nelle primarie del centro-sinistra a Trieste e in seguito alla ribalta delle cronache per una serie di manifestazioni di piazza documentate anche da Telequattro in cui si rese protagonista di un parapiglia con i poliziotti davanti al consiglio regionale ora è al centro della più scottante polemica politica umanitaria del momento su uno scafo circondato da tre motovedette in attesa della decisione del governo italiano o dell'Europa che sia e come abbiamo visto invece vicenda verso una soluzione cambiamo decisamente pagina 25 anni dal brutale assassino a Mogadiscio di Ilaria Alpi e Miran Crovatin quella drammatica vicenda rimane senza responsabili certi senza una verità Bianca Navarra sono passati 25 anni da quel tragico 20 marzo 1994 quando in Somalia venivano uccisi Miran Rovatin e Ilaria Alpi ancora oggi non si conosce la verità sulla loro esecuzione freddati sulle strade di Mogadiscio a colpi di Kalashmikov per mano di un comando armato in questi lunghi anni le indagini e i processi hanno visto un susseguirsi di ostacoli dei pistaggi e così non si conoscono ancora i volti dei colpevoli né dei mandanti della brutale esecuzione in certi casi come questo purtroppo nella quale era ovvio che nel inizio era difficile trovare la verità senza fare profeti perché è un caso che purtroppo è successo in una zona d'Africa dove nemmeno esisteva uno stato e quindi si navigava sempre nel buio e purtroppo si navigava nel buio ancora adesso oggi pomeriggio nel giardino della fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Rovatin di via Vallussi si è svolta una breve cerimonia commemorativa per ricordare le figure dei due giornalisti a quanto pare troppo vicini a una verità legata alla gestione dei rifiuti e dal traffico d'armi hanno pagato per questo i più grave prezzi in assoluto ma la ricerca della verità rimane irrinunciabile per i familiari dei due rappresentanti dell'informazione C'è un veto su un caso evidentemente è un caso difficile del quale insomma fare luce completa farbbe male a molti probabilmente a livello statale anche e quindi non se ne parla tanto è vero che siamo lì per lì per la chiusura del caso come si sa questo è quello che penso Voltiamo pagina seconda puntata della serie di approfondimenti tecnici di Telequattro sul regime del Porto Franco di Trieste dopo le origini dell'agevolazione che ha festeggiato ieri i 300 anni di storia passiamo ai vantaggi specifici per gli imprenditori che sono insediati o si vogliono insediare nel Porto Franco dalla Siot all'Adria Terminal dai terminalisti che si occupano di traghetti Rorò sino allo Scalo Legnami e al Molo Settimo specializzazioni differenti accomunate tutte dall'inserimento nel Porto Franco di Trieste e capaci di sfruttare aspetti diversi dell'agevolazione a seconda delle esigenze in primis nel caso di sbarco di merci provenienti dall'estero è prevista l'automatica presa in carico quindi operatività della nave in tempo reale senza attese e il mantenimento dello Stato estero illimitato per il carico con nessuna formalità per eliminare si risparmia dunque sia sugli oneri di gestione che sul pagamento di tasse portuali ridotte nel caso di importazione invece i diritti collegati si possono pagare a 180 giorni e il credito doganale sul dazio si paga a tasso ridotto quanto al transito di merce estera destinata all'estero e di sbarco di merce nazionale o comunitaria non viene richiesta alcuna fideiussione sui diritti dovuti come avviene invece in tutti gli altri porti nazionali prevista anche una maggiore flessibilità operativa in caso di imbarco di merce nazionale o comunitaria per l'estero con la possibilità di utilizzare immediatamente il plafond IVA particolarmente interessante il capitolo sulle lavorazioni e trasformazioni industriali in regime di Portofranco il vantaggio ritenuto la chiave per attrarre nuovi imprenditori nell'area attrezzata di Frieste all'interno del mega capannone adiacente alla Varsila si va dalla semplificazione delle procedure amministrative senza la necessità di fideiussioni sulle merci estere in deposito alla possibilità di acquisire il marchio d'origine italiana in regione del livello di lavorazione per la merce estera destinata all'estero senza peraltro discorsione dei diritti doganali fideiussioni e minori oneri sulla bolletta energetica il marchio Made in Italy è acquisibile anche qualora la merce sia destinata al mercato nazionale o comunitario con la possibilità di pagare a 180 giorni i diritti doganali sulle materie prime estere utilizzate e ieri sera puntata del Caffè dello Sport largamente dedicata alla vittoria della Triestina con il Vicenza l'analisi dei protagonisti in campo da parte dei nostri ospiti dal killer d'area Costantino alla conferma di Procaccio sino al Puliedro Bariti come l'abbiamo definito per la sua sgroppata sulla fascia che ha portato al secondo gol i tre davanti che hanno una bellissima intesa parlavamo tanto della binata Granolce Costantino anche con qualche dubbio di mezzo ci si mette invece anche Procaccio che ha grande qualità sia negli inserimenti ma anche nello schermo con i compagni belle triangolazioni si trovano molto bene Procaccio è una conferma ha fatto un campionato di grandissima qualità sia giocando trequartista che giocando quarto l'arco e per quanto riguarda Costantino forse è l'attaccante che ci serviva in questo momento il tassello mancante il tassello mancante per attaccare gli spazi infatti si vede in queste due partite sia il secondo tempo che il Pordenone che tutta la partita ieri ha fatto un lavoro che forse Granolce adesso non riesce a fare e che fa un altro tipo di lavoro ho visto anche Stefano Atruia da cestista stupito dello scatolo della qualità di Bariti in quel contropiede diciamo che mi ha ricordato io sono un amante di Maradona mi ha ricordato un po' il gol degli undici tocchi diciamo che insomma vedere un giocatore che percorre tutto il campo allungandosi la palla e che poi abbia anche la freddezza perché se voi vedete in quel momento quando fa il passaggio al compagno ha proprio quell'attimo quella freddezza per calibrare per aspettare dare un passaggio preciso perfetto non c'era neanche tanto spazio perché poi il difensore è passato vicino anche col piede a quella palla quindi tanta roba tanta roba per quanto riguarda il telegiornale è tutto buona serata e buon proseguimento con i programmi di Telequattro Grazie a tutti